e dottore mi scusi riguardo sonnessa per per quel rapportino si no l'ho letto il rapportino mi aveva lasciato qua sulla scrittina l'ho letto letto mi dice qualcosa ti verrà dire alla fine che non saprei no che il carattere del soggetto si veniva come il dpc decisamente poco a fuori noi riusciamo a capire adesso faremo ulteriori analisi anche perché sembra effettivamente avere tutti i requisiti per essere un caso molto interessante che probabilmente lo porteremo avanti e dovremmo creare alcuni chiuso ma vorrei venirne a capo è strano faccio in modo strano do il meglio che è meglio fare piano basso il tempo del sultano dello swing ogni giorno fino strano è strano pensavo strano ritrovo questa penna nella mano e man mano che la tengo mi si sciolgono parole su un tempo che lo senti te lo busi poi ci pensi e dici ma strano strano nato nato nello strato più malato viaggio tipo su un cavallo allato lato più nascosto di un mancato e marginato scrivo dopo il margine in cui mi hanno segnato non vivo in un munghetto e non ho fatto il soldato un delitto dirmi che spendo soldi che non mi hanno accreditato il dato che riesco solo a vivere stonato solo perché sono il mio curato cooperativista in vista di un buon risultato nato un nottevista ma nemmeno un attivista della naso strano leggo ogni rivista se è gratuita quando leggo quando cado in mero plano strano meglio fare piano che se esce dal coro questi fanno un attentato si si spiano meglio fare piano attorno me lo gridano forte chiaro strano è strano fiato è proprio strano ha lavorato un mese ma l'hanno già eliminato strano è strano è strano al viso di un drogato ha tagliato i capelli me lo stesso risultato è strano è strano è vero quel ragazzo è proprio strano è strano da quando era bambino già è strano è strano si e dopo tutte le analisi che abbiamo fatto su di lui sul suo tipo di comportamento abbiamo credito che alla fine non hanno integrità amore sono messa fuori due secondi dopo era straiato sopra la pedale insieme ai panettoni lascio il taglierino quando pensi ai genitori ma che strano questo figlio in effetti tutti i colori ma è fuori stranamente nuovamente fuori fuori luogo come la cassata con i peperoni quando un fai ad anni fa stavalle superiori alle 8 del mattino c'erano 200 cloni tutti con la stessa scritta sopra i pantaloni io con la chitarra e spalla la figlio dei fiori cercavo in un pr ed ho messo la firma però un ribellione pure se zero a sinistra se vedevo il sole avevo la maglietta mista strano è le mie mani sempre a pieno con la mista strano è la mia testa sempre fuori dalla mischia strano questo tipo quanti stili che ti mischia stisca motivetto dopo te lo mixa per me niente dance mi hanno già bruciata l'izia ho camminato tanto che se avessi avuto la patente avrei richiesto pure il mio gommista strano strano ragazzi è proprio strano strano in effetti non riusciamo a capire perché ragazzi è proprio strano non siamo proprio riusciti a venire a capo di nulla anche perché se le analisi vengono fatte in giorni diversi si hanno differenti risultati per cui è questo che non riusciamo non riusciamo a venire a capo è un bandolo che non riusciamo a trovare in questa matassa dopo rimarrà il classico caso clinico inspiegabile e rimarrà un segreto che mi porterò solo io nella tomba sì solamente io